Non sempre un serial killer si identifica in un personaggio solitario. Infatti ci sono casi di coppie assassine che agiscono insieme pianificando la cattura di una vittima per torturarla ed ucciderla. Nella maggioranza dei casi sono partner e la natura dei loro delitti è prevalentemente di tipo sessuale. Secondo alcune analisi ci sono circa 2200 casi di omicidi commessi in coppia e le vittime solitamente sono giovani ragazze. Il caso di cui vi parleremo oggi è quello della coppia Bernardo o Molca che suscitò un grande scandalo mediatico ed erano soprannominati la coppia Barbie e Ken. I due sin da subito formarono un rapporto di tipo violento con una strana impronta sessuale perché lei spesso fingeva di essere vittima di uno stupratore mentre lui la manettava e poi la violentava. Ma nonostante ciò il loro rapporto era insoddisfacente. Così Carla e Paul si spinsero oltre il limite dell'umano. Paul aveva delle strane perversioni sessuali. Infatti il suo sogno era quello di avere una fattoria piena di vergini pronte a tutto per soddisfarlo e queste depravazioni portarono Carla ad accettare tutto pur di rendere felice il suo amato. Così divenne l'esecutrice dei desideri crudeli del suo uomo accontentando addirittura la voglia del suo Ken di prendere la verginità della sua sorellina quattordicenne Tammy imbottendola di sedativi. Solo che il piano fallì perché la donna diede alla ragazza una dose eccessiva e questa morì e il caso venne archiviato come morte accidentale. Questo purtroppo fu solo l'inizio di una serie di omicidi perché da lì in poi ci furono altre due vittime Leslie e Kristen costrette a violenze atroci e a tante umiliazioni e addirittura la violenza di una delle vittime venne filmata con molti particolari. Nonostante gli omicidi erano stati ben occultati il nome di Paul Bernardo venne alla luce dopo anni di indagini accurate su degli stupri successi anni prima che lo condannarono al carcere. Secondariamente Carla spinta da alcuni parenti denunciò l'uomo per violenza e per l'omicidio delle tre ragazzine spingendo quindi gli inquirenti ad indagare così sia Carla che Paul vennero condannati lei per complicità mentre lui per 53 aggressioni e per tre omicidi. Il caso sembrava essere risolto ma alcuni fatti contrastavano l'immagine della donna perché in base alle videocassette dei crimini della coppia lei partecipava volontariamente e con convinzione alle violenze così questa prospettiva della donna costretta venne stravolta perché era capace di una pura crudeltà anzi era proprio Carla a controllare il marito e a fornirgli le vergini. Il procuratore Stunnel rese evidente che la donna era la parte attiva delle violenze perché Paul prima di incontrarla le sue vittime le liberava per lasciarle vivere. Questa è una delle tante storie che hanno sconvolto il mondo intero e che dimostra che la violenza come sempre è la protagonista indiscussa di un amore malato. uno e due viene per te tre quattro chiudi la porta chiudi la chiave non aprire afferra il croce fisso e difenditi